vi preannunciamo immediatamente che vi diremo poco e nulla ma le poche cose che sappiamo sono certe e sono numeri da record in questo momento siamo con luciano buttaro il regista in questo momento a roma più messo in scena è bruttissimo luciano l'autore l'autore anche capitato così questo di cui parleremo oggi è un spettacolo che ho diretto io che ho scritto io che dirigo io gli altri spettacoli in scena attualmente a roma in sette teatri diversi e sette titoli diversi sono diretti da altri registi fortunatamente è un caso che quest'anno è capitato così sette spettacoli diversi in sette teatri di roma sette pare porti bene sette re di roma sette nani sette peccati capitali i sette nani sette colli arriva dalla mia destra ed è rudy uno dei protagonisti di aspettando il giorno dopo aspettando godò perché importante anche il giorno dopo altrimenti altrimenti non si potrebbe parlare di uno a un testo mio quindi il giorno dopo aspettando godò è tuo sì sì aspettando godò è un pilastro del teatro mondiale l'ha scritto samuel beckett sessa più di 60 anni fa il giorno dopo aspettando godò l'ho scritto io quasi un omaggio a questo grande autore che studio da quando da 60 anni fa circa no no da circa vent'anni a più di vent'anni e quindi ho voluto omaggiare questo autore tenendo i suoi due protagonisti fra di miro e stregone mettendo dentro alcuni dei dei personaggi che in questi anni hanno caratterizzato la storia d'italia d'europa anche mondiale i vizi le virtù le sette meraviglie mi è venuto in mente oltre i sette peccati sette nani e quindi ci saranno dei personaggi nuovi che interagiranno con i due protagonisti che sono questi due barboni basta che non ho scritto io ma scritto beckett quelli altri nuovi li ho scritti io li ha scritti lui possiamo dire che uno di questi personaggi nuovi non vi diciamo chi è interpretato da rody sì è così ho la fortuna di partecipare a questo testo insomma la realizzazione di questo spettacolo siamo tutti consapevoli noi attori che stiamo insomma provando insieme ogni volta ogni giorno ci rendiamo conto della della bontà del testo e niente è un piacere veramente un onore anche partecipare a questa quest'opera teatrale secondo me è un'opera siamo riusciti a mettere insieme sette parole sette è difficile non dire nulla perché vorremmo dire tutto però se diciamo tutto come che da domani inizia questa questa messa in scena al teatro d'use per tutto febbraio ogni weekend venerdì sabato e domenica ci sarà questo nuovo aspettando a godò il giorno dopo e vorrei dirlo cosa succede ma non lo dico non lo diciamo che potrebbe anche arrivare finalmente godò ma non lo dico non non lo dirò dice non dice è una strana cosa e allora a questo punto non ci resta da fare nient'altro questa volta ma sul serio teatro d'use andiamoli a vedere e aspettando godò aspetteremo di capire teatro d'use venerdì e sabato ore 20 e 30 ingresso in teatro lo spettacolo inizia come solito alle 21 domenica sempre pomeridiana si alterneranno vari cast però è da non perdere come va a finire aspettando godò bro di vi aspettiamo al teatro d'use a roma via crema numero 8 sette volte sette l'abbiamo già detto sette volte dobbiamo dirlo teatro d'use via crema 8 aspettando il giorno dopo venerdì sabato e domenica teatro d'use rudy è uno dei personaggi aspettando godò non è il titolo è il giorno dopo aspettando godò di luciano bottaro quello è uno dei personaggi è interessante non sarà rudy con i tacchi a spillo ma potrebbe essere meno ma potrebbe essere un altro dei personaggi che arriva e interagirà con vladimiro ed estragone che sono i protagonisti storici di questo spettacolo e questo l'avevamo già capito io se dovessi andare io se non dovessi stare in linea regia andrei a vederlo questo spettacolo perché uno che uno che fa teatro uno che studia che ha studiato teatro anche a scuola all'università come fa a non vedere il sequel di aspettando godò io mi dico come fai se tu sei una persona a cui piace l'arte a cui piace il bello la poesia becchett è un grande poeta è un po ermetico un po assurdo come gioco ma c'è tutto nel nello spettacolo c'è joyce c'è becchett c'è bottaro anche e c'è rudy che fa un personaggio che se si se avesse detto qualche anno fa cosa fai in aspettando godò non avrebbe potuto rispondere in questa maniera lo dicono non lo dicono non lo dicono non lo dicono non lo diciamo venite a vederlo da domani al teatro d'uso ci vediamo ciao vi aspettiamo ciao